YouTube Nuovi Requisiti di Monetizzazione 2018 Purtroppo il 2018 porta delle brutte notizie per tutti gli aspiranti youtubers. Se avete già un canale avviato nessun problema, continuerete a fare soldi come prima grazie alla monetizzazione di YouTube. Se però il vostro canale non è ancora famoso, allora forse dovrete dire addio per un po' alla tanto sudata paghetta mensile. Da 20 febbraio 2018 infatti, se il vostro canale non ha raggiunto, o non raggiunge più, due requisiti, perderete in automatico la monetizzazione. Più precisamente, quello che si perde è la partnership con YouTube, e di conseguenza verrà tolta dal vostro canale anche la monetizzazione dei video, oltre che le schede e le schermate finali. Vediamo subito di capire quali sono questi requisiti per poter continuare a guadagnare con YouTube. YouTube 2018 Nuovi Requisiti di Monetizzazione Primo requisito, 1000 iscritti Se prima avere 1000 iscritti voleva dire soltanto poter attivare la super chat e la sponsorizzazione con partner esterni, ora se il proprio canale non ha almeno 1000 iscritti, si può dire addio ai propri guadagni su YouTube. Secondo requisito, 4000 ore di visualizzazioni negli ultimi 12 mesi. Questo secondo me è il requisito più penalizzante, perché vi costringe ad essere costantemente attivi sul vostro canale. Se infatti i vostri video in totale non riceveranno almeno 4000 ore di visualizzazione in un anno, perderete in automatico la partnership con YouTube. Cosa comportano questi nuovi paletti sul tubo? Semplicissimo, tutti i canali piccoli non potranno più guadagnare niente, a favore ovviamente dei grandi canali. Se quindi la vostra idea era quella di fare un po' di soldi senza impegno, magari caricando valangate di video, puntando più sulla quantità che sulla qualità, ecco che la cosa diventerà decisamente più ardua. Inoltre così, se non vi interessava fidelizzare il vostro pubblico ma fare video per tutti, magari puntando più a chi arrivava in maniera random da Google, ora sarete costretti a puntare un po' di più sulle iscrizioni. Il mio canale ad esempio tende a parlare di un po' di tutto, quindi una persona che capita qui, anche se vede un video che gli piace, magari non si iscrive al canale, perché probabilmente quello è l'unico filmato che tratta quell'argomento. Va da sé che così si tende a far forzare un po' la mano ai vari creators, che si vedranno costretti a cambiare il loro modo di lavorare. Come riacquisire la monetizzazione persa. La buona notizia è che se anche perdete la monetizzazione perché non avete ancora raggiunto questi due requisiti, potrete rifare la richiesta di partnership con YouTube non appena il vostro canale soddisferà nuovamente i requisiti minimi. Il contro è che purtroppo potrebbero volerci anche due settimane affinché la vostra pratica venga esaminata. E come si dice, il tempo è denaro. Inoltre, se per qualche motivo manderete la richiesta e nel frattempo perdete uno dei requisiti minimi, allora questa verrà respinta, e dovrete aspettare addirittura un mese per poterla rifare. Insomma, il 2018 purtroppo ha portato per tutti gli aspiranti YouTubers, davvero delle brutte notizie. Già da non troppo tempo i requisiti minimi per la monetizzazione erano stati alzati, speriamo quindi che YouTube tra un po' di tempo non alzi nuovamente la sticella, perché ogni volta è sempre più dura.